... Trasmettiamo le previsioni del tempo a cura del servizio meteorologico dell'aeronautica. Ma che bella giornata! Medio ed alto adriatico, mossi o leggermente mossi. Sull'arco alpino abbondanti nevicate con pericolo di slavine. Nebbie in valle Padana, calmi gli altri mari. E poi ci sono anche venti forti dal sud ovest. Notizie del giorno. Il sindaco di Milano ha stabilito che a partire dal 21 dicembre prossimo venturo tutte le città al di sopra dei 3.000 abitanti verranno chiamate Santa Margherita Ligure. Ma questa è una stronzata! Un gruppo di dentisti ha stabilito che l'altezza media del cervino è superiore di due metri. Ma di che cosa? Di niente. Questa è proprio una stronzata! La finisci di criticare le mie notizie? Adesso, finché non esci di qui, non dico più niente. Va bene, non dire più niente. Ciao. Ciao e buon lavoro. Eh, ciao. Ah, ricordati di comprarmi le pile! Sì, va bene, te le compriano. Cosa c'è? Mercoledì, riunione condominiale. Qui c'è sempre da discutere. Una volta l'ascensore, una volta la portineria, poi vogliono rifare la facciata. In certi momenti invidio i baraccati, guarda. E lo sputanamento, olè, e lo sputanamento, che cos'è? Forse voglio andare, abbracciare e non toccare, ma è già l'arte pantalone, è robusto il pendolone. Dico che è maleducato, perché l'hanno già sconfiato. Olè, 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 olè. La, 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 la...